La bellissima Annette Stephens avrebbe deciso di avere un suo OnlyFans, il sito chiamiamolo di insensualità per eccellenza, così lo vado a definire, così lo vado a indicare. La bella donna in questione avrebbe promesso addirittura a scintille Bienvenidos, avrebbe scritto qui potremo vedere foto me esclusive ma anche segrete. Era il 15 ottobre 2022 quando è apparsa questa scritta per inaugurare proprio il suo profilo di OnlyFans, un sito che garantisce bellezze a livello estetico da osservare, da guardare, da ammirare, che ovviamente non passano di certi inosservati. E osservate, ci saranno delle foto sexy, delle foto intriganti, delle foto conturbanti, sono sicuro di questo, dove il fascino, la bellezza, ma soprattutto la fresca sensualità di Annette Stephens saranno palesi, a chiunque nessuno è scuso. Bene, vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi, utenti di YouTube, iscrivetevi al canale NarratoIitaliano e commentate. Questo video non vuole dare la privacy di Annette Stephens né di altre persone, ma solo informare e basta. Nace solo per questo motivo, non per altri motivi, quindi solo informare eventuali persone di questo bel profilo che la bellissima, sexy e meravigliosa Annette si sarebbe creata. Ciao a tutti voi.